Lui sceglie appositamente ragazzi abbastanza indifesi, quindi anche un pochino più gracili fisicamente rispetto a lui, che comunque è alto più di un metro e ottanta, quindi abbastanza possente fisicamente. E adesso queste aggressioni si sono sfociate in lesioni anche più gravi. In questo caso ha creato una piccola distorsione, comunque sì, l'episodio sicuramente ha dei connotati abbastanza violenti. Solamente un anno fa aveva messo a segno 16 rapine, tutte ai danni di alcuni ragazzini. Era stato così arrestato, ma ieri pomeriggio è evaso dai domiciliari e ha aggredito ancora una giovanissimo. Sono così scattate nuovamente le manette per un cossovaro pluri pregiudicato. È successo ieri in pieno giorno e in pieno centro al Parco del Prato, attorno alle 17.30 e infatti la giovane vittima di appena 15 anni ha chiamato il 113. Il ragazzino in lacrime ci aveva raccontato di aver appena subito una rapina, si era avvicinato un ragazzo abbastanza grosso fisicamente, gli ha afferrato il polso con violenza e gli ha intimato di dargli tutto il denaro che aveva con sé. Il rapinatore dopo aver ottenuto quanto chiesto circa 20 euro si è dato alla fuga. Sul posto la polizia di Stato che, anche grazie alla descrizione fornita gli dalla vittima e da alcuni testimoni, si è messa immediatamente sulle tracce del rapinatore. Per le modalità con cui è stata fatta la rapina e per le caratteristiche anche fisiche, la nostra attenzione si è subito concentrata sul solito rapinatore che già l'estate scorsa aveva compiuto rapine simili ai danni di minorenni. Così gli agenti si sono diretti all'appartamento del 21enne a Subbiano dove il giovane sta scontando gli arresti domiciliari. Verificata la sua assenza ci siamo concentrati nelle vie limitrofe alla stazione ferroviaria pensando che dovesse prima o poi comunque tornare a casa prendendo il treno, non avendo a disposizione altri mezzi di trasporto. Ed effettivamente verso le 6 e un quarto l'abbiamo notato sopraggiungere al binario 1 proprio in prossimità del treno per il Casentino. Rapina aggravata ed evasione i reati di cui adesso il 21enne dovrà rispondere.